Tra le tante memorie della Grande Guerra, quelle riguardanti gli Arditi, i gloriosi reparti d'assalto italiani, assumono un aspetto molto particolare per il fatto che in seguito al loro frettoloso scioglimento subito dopo il conflitto, di essi rimase solamente il ricordo, presto tramutatosi in mito e leggenda. Noi oggi cerchiamo di ripercorrere quelle gesta di valore e sacrificio raccontando una tra le molte pagine della loro storia attraverso l'avvincente diario di uno di loro, l'aspirante ufficiale Hermes Aurelio Rose, che combatté tra le file degli Arditi in grappa.